Nuova linea ultrasensoriale con texture altamente performanti che aiutano a far durare il nostro make up ma non solo a valorizzare il nostro incarnato. Ti lascio subito al video. Ciao sono Nives benvenute ben ritrovate sul mio canale oggi testeremo novità niente male ti dico subito che sono molto chiacchierate low cost e dalla texture sensoriale e finalmente provo anch'io le novità di Astra. Eccoli qua sono arrivati tanti tanti prodottini non vedo l'ora di testare e capire se sono performanti su base matura. Partiamo subito con le novità della nuova linea zen routine pensata all'universo del priming. Sono tre primer per il viso ma non solo. Sono dei prodotti multifunzionali che adesso li vedremo in azione e capiremo se effettivamente sono altamente performanti e soprattutto se valorizzano una base matura. Sinceramente in questi giorni non ho saputo resistere e ho iniziato a testarli e adesso ti faccio vedere la mia combo preferita. Loro due inizio subito da questo siero in olio è un primer è un prodotto multifunzionale è un elisir ricco di antiossidanti. All'interno abbiamo un blend di oli di girasole e di rosa moscheta perfetti per rigenerare la pelle e per aiutare una pelle matura. Sono tante pagliuzze in oro 22 carati. Spero che si possa vedere in videocamera. Si può utilizzare come primer. Direi che è un sublimatore della pelle che ti lascia questo effetto radioso. Come lo applico? E' bene sapere che l'olio viso si applica sempre dopo la crema viso come ultimo step. Lo scaldo tra le mani e lo applico tamponando anche sul collo. Ha una fragranza unica. È una coccola per la pelle che aiuta a rigenerare la nostra pelle ed è ricco di antiossidanti. In questo cambio di stagione sono perfetti. L'effetto è radioso, non lascia untuosità e ha rapido assorbimento. Ti lascia una pelle morbida, setosa e profumosa, ma in modo delicato, quindi non è stucchevole. È diventata la mia dipendenza. Mattino e anche alla sera prima di coricarmi un paio di goccine e al mattino il mio viso ringrazia. Lo trovo molto più disteso e soprattutto radioso. Effetto pelle sana, quella che cerco. Applico un paio di gocce anche sui capelli. Lo scaldo tra le mani, lo applico sulle punte. Capelli profumati e idratati. Niente male direi. Prodotto multiuso che crea dipendenza. Subito dopo applico il face primer. Non esce nulla, come mai? Fa gli scherzetti. Proviamoci ancora. Eccolo! È perlescente, come vedete. E la formula è molto interessante. Olio di Argan, quindi abbiamo una buona quota idratante. Le bacche di goji, che hanno un'azione antiossidante. E l'olio di semi di mirtillo, che è un sebo regolatore. Anche qui la fragranza è paradisiaca. È luce pura. Si può utilizzare, oltre che come primer, anche per dei piccoli punti luce. Sulle clavicole, per esempio, d'estate, quando abbiamo le nostre scollature. Sugli zigomi, sul ponte del naso. Ne applico una piccola dose perché è molto molto pigmentato e sinceramente non mi piace fare la lampadina. Il collo, anche sul decolleté. pelle radiosa. Effetto perli skin. La tendenza del momento. Innamorata di questo effetto. Non so cosa ne pensate. Aspetto i vostri commenti. Combo eccezionale. Assolutamente da provare. Ultimo prodotto della linea Zen Routine. Guardate che meraviglia. È un gel cristallino con tante pagliuzze in oro e in bronzo. La fragranza è ultra sensoriale. Come si utilizza e a cosa serve? È un primer che esalta la nostra bronzatura. Un micro cristalli in bronzo e in oro che massaggiandoli si spaccano e rilasciano un colore leggermente abbronzato e anche luminoso. Beauty tip. Aggiungine una piccola dose alla tua crema giorno. E l'effetto sarà un viso leggermente abbronzato e radioso. Un'ottima soluzione se non ami il fondotinta. Perfetto per la stagione estiva. Oltretutto ha anche un'azione idratante perché all'interno c'è acido ialuronico e glicerina. Ne prendo una piccola dose e la massaggio sul viso. Lo trovo piacevole sulla pelle. Mi piace questa leggera tonalità di colore che è perfetta se non ami e non vuoi utilizzare il fondotinta soprattutto nella stagione calda. Adoro anche il fatto che la pelle risulta setosa e non unta. Questo è un plus in più. Non è appiccicoso, si assorbe in 0,2 e vogliamo parlare di questa leggera colorazione. La stramo. Togli il grigiore e ti lascia un aspetto leggermente abbronzato che non è niente male direi. Super bomba di Astra da non perdere. Continuiamo la nostra full face con altre due novità. Sono della linea light therapy. Ci sono cinque shade tra cui illuminanti e blush. Io ho scelto due blush. L'applicatore è un pratico cushion che ci facilita la stesura soprattutto nel dosare la texture. L'apertura è molto semplice. Basta roteare qua sotto, si apre, si chiude in modo che conserviamo al meglio il nostro prodotto. Non c'è alcun pericolo che fuoriesca e soprattutto che non si secchi. 04 Peach. È un ibrido tra blush e illuminante. 05 Pink. Vado di Pink. E con le dita sfumo. Si sfuma in 0,2 ragazze. Guardate che meraviglia. Poi ti dà questo effetto radioso ma molto molto elegante. Ne metto anche un po' sul nasino, sul vento e un po' sulla fronte per dare quell'effetto baciato dal sole. Metto anche una puntina peach. wow l'effetto mi piace un sacco. Che ne dite? Vi aspetto nei commenti. Comunque anche questi sono un'ottima soluzione. Impalpabili, zero spessore, perfetti su base matura. Ravviva l'incarnato in modo naturale ed è molto discreto. Con la palettina di Astra concludo il trucco agli occhi. prelevo questo rosa e lo applico su tutta la palpebra mobile e fissa e sfumo verso l'alto e verso l'esterno. Con una matita marrone intensifico con un infraciliare e faccio anche una piccola codina. due passate di mascara. Questo lo adoro ed è della linea pure beauty di Astra. concludo le labbra con la lip pencil 41 wood. e al centro utilizzo il rossetto madame lip stilo ménage à trois. e voilà il risultato mi piace un botto. Astra ha fatto boom prodotti stratosferici assolutamente da non perdere. Fateci un pensierino. Mi piace molto questa base senza fondotinta ragazze. che meraviglia con questi tre prodotti. A posto del fondotinta ho utilizzato lui questo primer in gel che dona un colore leggermente abbronzato. Prodotti spettacolari performanti che hanno superato la prova e sono adatti anche per noi che abbiamo una base matura. Ciao! Ciao! Ciao!